Oggi voglio raccontarvi la storia dell'icona delle corse su strada. Forse il pilota più amato nonostante le sue non vittorie. Ebbene sì ragazzi, stiamo parlando di Guy Martin. Sul mio canale lo avete intravisto sul video della Kryton, è stato molto apprezzato, quindi ho detto perché non andare nel dettaglio. Tornando a noi, è un pilota che non ha mai vinto, ma è salito sul podio della regina delle corse su strada per ben 17 volte. Il Tourist Trophy, o più comunemente chiamato Isola di Mann, che è il luogo dove ogni anno si tiene questo incredibile evento. Faccio questi video per iniziare a farvi entrare nel mood delle road races, dato che quest'anno inizierò a farle anch'io, a livello nazionale e internazionale. Su Instagram ho già spoilerato un po' di cose. A breve, quando tutto è mega ultra super confermato, video anche qui. Tornando a Guy, un talento puro, veloce e in gamba. Una persona umile, partito come un meccanico che agli inizi si preparava la moto da solo. Un piccolo dettaglio, ma importante, che scoprirete, è che il suo passeggero preferito durante tutta la sua carriera è stata una cosa un po' fastidiosa, cioè la sfiga. Ma come ogni buona storia, partiamo dall'inizio. Ma, mentre stiamo riavvolgendo il nastro, vi ricordo che il modo migliore per supportarmi, e soprattutto in maniera gratuita, è iscrivervi al canale. Tazzo iscriviti, qui sotto, facilissimo, velocissimo. Martin nasce il 4 novembre dell'81 a Grimsby, nel Lincolnshire, in Inghilterra. Suo padre, un certo Ian Martin, non era nuovo al mondo delle corse. Era un pilota di successo e correva come privato nel Tourist Trophy. Ad un certo punto, però, come ben sappiamo della storia di un sacco di piloti, per questioni di budget fu costretto a trovarsi un lavoro come meccanico, di moto e camion, che potesse così supportare la sua passione. Martin ha due sorelle e un fratello, il quale è stato, a sua volta, pilota di moto e meccanico di camion. E pensate che famiglia, la sorella minore, Kate, è diventata il primo meccanico donna nel paddock del BSV British Superbike. I quattro fratelli Martin vanno sempre a guardare il padre quando si cimenta nella corsa più folle del pianeta, l'isola di Man. Purtroppo, però, questa tradizione familiare si interrompe nell'88, a causa del bruttissimo incidente di Ian durante una gara a Oliver's Mount. Quest'ultimo, una volta ripreso, perché l'hanno tirato su per i capelli, decide di non correre più e di dedicarsi esclusivamente alla sua attività di meccanico. Occasionalmente anche nelle classiche gare di moto su pista. Ragazzi, è una malattia, si fa fatica a uscirne completamente. Martin è interessato fin da subito alla meccanica, ispirato sicuramente dall'esempio del padre. Finita la scuola, inizia subito il suo percorso universitario studiando ingegneria. Dopo poco tempo, però, si rende conto che studiare come un pazzo per guadagnare niente non gli piace poi così tanto. Decide quindi di lasciare subito gli studi teorici per lanciarsi sulla pratica. E quindi via in un'officina a Volvo a mettere a posto camion imparando il più possibile sul campo. Nel frattempo inizia anche a lavorare con il padre per guadagnare sempre più esperienza. E immagino che la vostra domanda sia sacrosanta quella che vi state facendo in questo momento. Cosa ci azzecca un meccanico di camion con le moto? Perché il problema è che per mettere le mani su quelle moto che aveva addocchiato il buon guy, quella è la competizione, bisognava fare un bel po' di esperienza. Quindi, insieme al discorso camion, ha iniziato a sistemacchiare le moto degli amici. Le moto degli amici? Sì, le moto degli amici che correvano per fare le corse su strada. Ma per strada, non per strada con le strade chiuse. Per strada, insomma, per così dire. E pian pianino, tramite qualche aggancio, riuscì a entrare nel giro del paddock dell'isola di Man. Con il poco tempo libro che gli rimaneva tra meccanico di camion, meccanico nell'officina del padre, lavoretti occasionali per guadagnare il più possibile, Martin comincia a fare qualche garetta sporadicamente su strada. A 18 anni però tutto cambia. Dopo un incidente su strade pubbliche, pensate la testa che poteva avere Guy Martin a 18 anni, cioè manca a pensarci, decide in maniera molto saggia di iniziare a correre su strada. Esatto, perché prima correva come i suoi amici su strada pubblica aperta, gare non proprio legalissime. E quindi ha detto, adesso ci mettiamo a posto e corriamo nelle gare legali. Sì, avete capito bene. Dopo aver fatto un incidente in moto, la maggior parte delle persone sarebbe anche solo riluttante all'idea di rimettersi in sella. Invece lui no. Invece che passare alle gare su pista, che comunque sono molto pericolose, decide di andare ancora più al limite nelle gare su strada. Eroi. E quindi come fare per un aspirante pilota delle road races? Bisogna trasferirsi nella patria delle corse su strada, cioè l'Irlanda del Nord. Terra che ospita alcune delle più famose gare stradali. La Northwest 200, l'Alster GP, la Cockstown, eccetera eccetera eccetera. Io stesso che ormai sono andato sotto un treno con le gare stradali, ho iniziato a consumare i video delle road races nordirlandesi. E non avete la minima idea dell'adrenalina che trasmetto. In quattro aperti a ventaglio con delle superbike da 320 km orari, in mezzo alle stradine di campagna, in scia, fuori dalla... Ragazzi, follia pura. In queste gare inizia la sua carriera da pilota. Cioè, come avete visto, roba easy, insomma, roba semplice. Ma il nostro Guy Martin aveva un sogno nel cassetto. Quello di vincere al Tourist Trophy. Impresa che neanche al padre Ian è riuscita. Nel 2004 si iscrive per la prima volta al TT. Con i colori del team Will Duncan Racing Team. Martin è veloce, lo si vede da subito. Infatti, nelle sue due prime stagioni, colleziona il primo podio al TT, nella classe TT Senior. Per farvi capire, la classe regina. Dove corrono le superbike con sopra i piloti pluri, ultra, super, titolati. In quella specialità. Sempre in quell'anno vince l'International Gold Cup e un'altra gara molto importante, sempre lì in Irlanda. L'anno successivo cerca di fare lo steppettino. Cambia team e si unisce al I.M. Racing Team Yamaha. Rimpiazzando un certo John McGuinness. Un mostro sacro. Cioè, il mostro sacro. Il boss finale. Per chi ha giocato a Nintendo Super Mario, un po' Bowser quando arrivi lì che devi prendere la principessa. E se tipo un idraulico italiano con i baffetti alto un metro e venti con questa montagna di mostro che, vabbè, insomma, ci siamo capiti e ci abbiamo giocato tutti noi millennials. John McGuinness era quella montagna insormontabile, per capirci. Comunque, in ogni caso, non si dà per vinto. Parte forte. Ma, vi ricordate quello che ho detto all'inizio? La sfiga. A causa di alcuni problemi, chiude solo al quarto posto la gara. Non soddisfatto di come è andato il TT, decide di andare all'Alster Grand Prix, dove, incazzato come una farina, vince quattro gare. E, come è normale, si inizia a parlicchiare di lui nel paddock. Inizia il 2007 e Martin decide di cambiare un'altra volta moto, correndo per Hydrax Honda. Quest'anno sembra quello dell'affermazione per Martin. Collezionando due secondi posti e un terzo posto. Ma, sul più bello, in Supersport, dove era vicinissimo alla vittoria, accade quello che è un pilota, spera, non accada mai. Rimane a secco, a 5 km dal punto di rifornimento. Un disastro. Il resto della stagione, come consueto, corre ancora tutte le altre gare nord-irlandesi e vince praticamente tutto quello che si può vincere. Arriviamo quindi al 2008. Sembra finalmente l'anno della svolta. Ma, purtroppo, quel maledetto passeggero chiamato sfiga, che è lì sul codino posteriore, quando si trova in testa con ben non uno, non cinque, non dieci, ma undici secondi di vantaggio, nella categoria TT Superbike, a causa di un guasto meccanico alla sua moto, si deve ritirare. Un altro disastro. Un'altra volta il sogno scompare. E forse quest'anno sarà il momento dove si avvicinerà di più a quel maledetto titolo che gli è sfuggito così tante volte. Comunque, in ogni caso, non tutti i mali vengono per nuocere, perché il suo nome ormai comincia a essere sulla bocca di tutti. A parte il TT, infrange ogni tipo di record in ogni gara possibile in Irlanda. Vince la International Gold Cup a Oliver's Mount per la sesta volta di fila. Un record a quel tempo. Durante il 2009, squadra che non vince, si cambia. E quindi passa a Wilson Craig Honda. I più appassionati se la ricorderanno. Quella magica livrea rossa, argento e gialla, per ricordare i bei tempi andati. Ci sono tutti i presupposti, questo deve essere l'anno del riscatto. L'anno in cui finalmente riesce a coronare il suo sogno di vincere al Touristrophy. Dopo anni di delusioni, dovute anche a problemi tecnici, che sono le cose che ti fanno più incazzare. Che quando è colpa tua da pilota dici, eh vabbè, ci sta. Però quando ci sono quelle cose che sei lì che non pensi neanche che possa succedere. E ti finisce la benzina, la gomma e il piccione. Cioè, quelle ti fanno più uscire dei test. In ogni caso, inizia l'evento più atteso dell'anno. Martin è pronto e carico per provarci ancora una volta. Parte molto bene, terzo in Superbike, secondo in Superstock e Super Sport. Ma ancora una volta, la sfiga è con lui. Perché mentre sta per vincere un'altra volta con la Super Sport in gara 2, il motore si ammutolisce. Come sappiamo, il TT è estremamente duro sia per i piloti, ma anche per le moto. Che devono percorrere i 60 e passa chilometri del circuito, o meglio, strada, praticamente è quasi sempre full gas. Non è quindi così inconsueto che a volte, purtroppo, i motori cedano. Martin poi, come la tradizione, passata la delusione del TT, torna nelle gare nordirlandesi e vince sempre tutto. È molto veloce, ormai lo sappiamo, ma a lui interessa solo una cosa. Vincere quella che ormai sembra una gara maledetta, il TT. Il 2010 è stato un anno molto controverso. Inizia il TT non nel migliore dei modi. Prende una penalità di 30 secondi e direte, che cavolo ha fatto premendo questa mega penalità? Ha percorso la pit lane di 0,112 km orari più veloce rispetto al consentito. Senza quella penalità, si dice, avrebbe potuto lottare con Ian Hutchinson per la vittoria di quella gara. Ricordiamoci che quell'anno Ian Hutchinson vinse tutto. 5 gare su 5. Era praticamente imbattibile. E non so se ve lo ricordate, ma i miei inizi su YouTube nel 2016-2018, lo incrociai ad Almeria e ci feci un 4-5 giri insieme. Fu incredibile. Solo pensateci, ho ancora la pelle d'oca. Magari ve lo lascio qui sotto da qualche parte nella descrizione, insomma. Tornando a quell'edizione, durante la categoria senior, Martin è al limite. Sta spingendo con tutto quello che ha e forse anche qualcosa di più. Perché vi ricordo che su strada comunque bisogna sempre tenersi un bel 10% di margine. E lì probabilmente il buon Martin per correre dietro a quell'ossessione era non al 95, non al 99, ma al 101%. Si trova in seconda posizione veramente a niente d'Hutchinson. La moto si muove, scuote e non chiude neanche sul rettilineo, sui salti. È indemoniato. Purtroppo sta esagerando. In ingresso alla curva Balagheri, uno dei punti più veloci del circuito, 270 km orari con muretto a destra e muro di pietra a sinistra, perde il controllo della sua moto e cade. Lui e la sua Honda partono per la tangente e vanno a sbattere nel muro di pietra. La moto prende fuoco e gli organizzatori sono costretti a dare la bandiera rossa a fermare tutto a causa del gravissimo incidente con benzina, oli, fuoco, qualsiasi tipo di cosa in mezzo alla pista. E soprattutto era da stabilire in che condizioni fosse in quel momento Martin. Dagli addetti ai lavori è considerato un vero e proprio miracolo, visto che addetta di tutti in quel punto se cadi non ne esci vivo. Invece per Guy che ha la pellaccia dura, solo qualche frattura alla schiena ed una contusione a un polmone abbastanza grave. Cioè, pensate, dopo aver rischiato la vita arrivano anche le critiche. Un certo Simon Buckmaster, pilota inglese che ha corso una cinquantina di GP negli anni 80-90, critica pesantemente Martin, sostenendo che andando avanti così sarebbe finita male e non avrebbe concluso niente. Addetta sua doveva concentrarsi più sulla preparazione e sulle gare e meno sulla TV e i media. Perché, non so se lo sapete, ma già in quel periodo Guy Martin era notissimo in TV. Partecipava a film e programmi televisivi. E dal video che avete visto fino ad adesso, o se avete ben presente il personaggio, potete ben capire che non è che lo facesse apposta. Era semplicemente un fulminato totale che non poteva essere ignorato dai media. Le televisioni cercano quel tipo di personaggio, quel tipo di persona, quel tipo di carisma. Quindi la verità è che è un qualcosa che è venuto per caso. Non è stato cercato. In ogni caso, Guy era mega, ultra, super amato. Quindi, a parte qualche piccolo hater che cercava sempre di rompergli le palle, la sua figura non ne ha assolutamente risentito. Anzi, aumentando la discussione, diventava sempre e sempre di più discusso. Ma allo stesso tempo, anche più famoso. Da fine 2010, Martin cambia per l'ultima volta team. Correndo per TAS Racing. All'inizio con la Suzuki, per poi passare a BMW 5 anni dopo. Questa è la prima volta in cui il pilota inglese si ritrova in un team, per così dire, factory. TAS Racing è praticamente il non plus ultra come team per le corse su strada. E ai tempi era anche ben presente nel BSB. Ai tempi così come oggi, eh. In ogni caso, fino a quel momento, Guy doveva anche un po' aiutacchiare, cambiare un po' le gomme, insomma, sporcarsi le mani anche lui. Invece lì poteva veramente essere un pilota praticamente ufficiale. Doveva salire solo in moto, girare la manopola e dare gas. Nel 2011 Martin vince l'Ulster Grand Prix e colleziona tre terzi posti e un secondo posto al TT. Niente ragazzi. Un martello, ma quella vittoria di mannaggia non arriva mai. Martin, sempre quell'anno, si iscrive a tutte le competizioni possibili per allenarsi in vista del suo maledettissimo sogno, il TT. E, in men che non si dica, arriva il momento più atteso dell'anno. L'isola di Man. Martin ci riprova per l'ennesima volta. Vuole vincere, vuole portare a casa almeno una vittoria sull'isola. Chi se ne frega, Super Sport, Super Bike, Senior. Una sacrosanta vittoria. Come sa fare benissimo durante la gara Super Bike, è dietro a John McGuinness e Cameron Donald. Due nomi così leggeri. Ma ancora una volta la sfiga sembra non volerà abbandonare mai il pilota inglese. Durante l'ultimo pit stop, a causa di un problemino tecnico, il team non riesce a cambiare la ruota posteriore. Questo però a lui non interessa. Rientra e riparte lo stesso con la gomma praticamente finita. Inevitabilmente, a causa del minor grip, rispetto agli avversari, perde una posizione. Ma tiene botta e riesce comunque a concludere al quarto posto. Cioè, ha fatto l'ultimo giro con una gomma che ormai ballava Giacomo Giacomo, rispetto a tutti gli altri che invece l'avevano cambiata. Tutto questo senza considerare che è sconsigliatissimo per il rischio di desciappamento della gomma. Per colpa delle altissime solicitazioni alle quali gli pneumatici sono sottoposti. Per i meno esperti, quel fenomeno che fa staccare letteralmente la mescola superiore dalle tele che stanno subito sotto. Gommisti, perdonatemi per la semplificazione, ma non sapevo come fare. Tornando al nostro sfigatissimo pilota, ci riprovo nel 2013 e nel 2014. Collezionando però, ancora una volta, solo dei podi nei due anni. Che, cioè, facciamo chiarezza, per altri piloti sarebbe un sogno fare podio all'Isola di Mano. Ma per lui non bastava. Era un'ossessione. Inizia così la stagione del 2015. Ormai Guy è una star sia in pista che fuori dalla pista. Si può dire che sia il volto delle corse su strada ed è incredibile come molti altri piloti sono entrati nell'Olimpo vincendo delle gare, facendo delle prestazioni incredibili come Ian Hutchinson, come John McGuinness. Lui non ha vinto nulla ancora eppure è uno dei più amati, più idolatrati, più intervistati. Sentite questo piccolo estratto dal film Closer to the Edge che se non l'avete visto guardatelo perché pelle d'oca alta così. In ogni caso, dopo la Northwest 200 dove non riesce a mettere insieme dei risultati degni di nota, è il momento di riprovarci un'altra volta. Ma un po' per le cadute, un po' perché inizia ad non avere più quel sacro fuoco dentro, la sua parabola inizia un attimino ad andare verso il basso. Ormai, lo avrete capito, neanche questo sarà al suo anno. In questa edizione riesce solo a portarsi a casa un terzo posto nella categoria Super Sport. Nella categoria Senior, però, riesce a firmare il suo record di velocità media. Poco più di 213 chilometri orari. Pensate che al giorno d'oggi nel 2023 è di 219 chilometri orari. Follia. In ogni caso, non basta. Si piazza a due secondi dal vincitore. E indovinate chi? Ebbene sì, ancora lui. John McGuinness. Che in quella edizione chiude il giro migliore in assoluto. Quella stagione, come di consueto, partecipa anche alle gare nordirlandesi e purtroppo proprio in quelle gare arriverà il secondo e quasi fatale incidente. E' probabilmente un po' quell'ultima botta che probabilmente lo fece ragionare un pochino di più sul suo sogno e sulla prospettiva di avere una vita ancora normale. Difatti, Guy parteciperà ancora una volta nel 2017 al TT per poi ritirarsi definitivamente. Citando le sue parole, dopo tanti anni passati a correre ormai si era un po' a suo fatto, annoiato. Evidentemente dopo tutti quegli anni a rincorrere quell'ossessione, quel sogno, si è reso conto che probabilmente non l'avrebbe mai vissuto. Anzi, come già detto, non aveva più senso continuare a sfidare la sorte che nonostante tutto nei momenti importanti l'aveva graziato. Questa storia oltre alla resilienza ci insegna che per essere dei campioni amati dal pubblico non bisogna per forza vincere ma semplicemente dimostrare che per quel sogno si è disposti a tutto anche a perdere la vita. Questo era Guy Martin, il pilota del popolo.